Ciao a tutti, fai queste tre cose con un narcisista e loro perderanno la testa. Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube ovviamente. Attivando sempre la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e se vuoi fare donazioni ovviamente queste sono ben accette. Ma veniamo al tema, fai queste tre cose con un narcisista e loro perderanno la testa. Allora, quali sono tre cose che dovresti fare con un narcisista affinché loro perdano la testa? Cioè non riescono più a connettere, non che si innamorano di te, ma non riescono più a connettere, non riescono più a gestire la situazione. Beh, la prima cosa fondamentale che devi fare è, diciamo, non farti vedere debole, non farti vedere succube. Farti vedere come una persona con capacità di autocontrollo, con capacità di autostima, con capacità di autoriflessione. Ecco, se ti fai vedere in questo modo, se ti fai vedere come una donna, come un uomo, perché poi i narcisisti insomma sono uomini e donne, quindi interagiamo con narcisisti uomini e narcisiste donne, questo è un punto fondamentale. Perché, diciamo, loro non riescono, non hanno più la chiave, no? Il narcisista non ha sicurezza, il narcisista non sa come gestire le situazioni. Se tu non, come dire, se tu ti fai vedere come una persona solida, come una persona centrata, come una persona emotivamente forte, come una persona sicura di se stessa. Ecco, queste cose sono cose che devi far vedere al narcisista, devi fargliele percepire, devi fargliele sentire, devi fargliele toccare con mano. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale se tu vuoi, diciamo, mettere, tra virgolette, K.O., il narcisista stesso, da un punto di vista emozionale, da un punto di vista emotivo. Questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto, molto importante, è quello che non devi farti vedere competitivo o competitiva nei suoi confronti, cioè non devi sviluppare avversione, non devi sviluppare rabbia, non devi sviluppare niente, cioè quello che devi dare è la totale indifferenza. Tieni presente che il narcisista teme l'indifferenza perché, come dire, lui cerca di agganciarti sulle emozioni e se tu dimostri, gli fai capire che emotivamente non sei sensibile alle cose che dice, non sei sensibile alle cose che fa, te ne fotti di quello che dice e di quello che fa, questo è veramente un punto molto importante, veramente un punto fondamentale per poter mettere, tra virgolette, il narcisista in scacco matto. Quindi dai scacco matto al narcisista in queste modalità e vedrai che le cose per te andranno molto meglio. mai innescare competizione con un narcisista perché è una battaglia persa. Il terzo punto fondamentale, se vuoi far perdere il controllo, loro perderanno il controllo, perderanno la testa, non avranno più niente, non riusciranno più a fare niente, è quello di attivare la più grande paura del narcisista. Il narcisista teme la paura dell'abbandono, teme fortemente la paura dell'abbandono, non tanto perché attraverso la paura dell'abbandono teme di perdere, come dire, l'amore, perché il narcisista ovviamente non ti ama, ma perché teme di perdere un qualcosa che per lui è molto importante, cioè teme di perdere, possiamo definirlo, teme di perdere il fatto di essere considerato, perché noi che cos'è che abbandoniamo? Abbandoniamo gli scarti, abbandoniamo i rifiuti, abbandoniamo le cose inutili e quindi farlo sentire inutile è molto importante, è fondamentale per mettere in scacco matto il narcisista. E tu devi dare scacco matto al narcisista, molto importante questo. E poi un quarto punto, una quarta cosa che ti suggerisco di fare, se vuoi perdere la testa al narcisista, se vuoi far sì che il narcisista perda il tuo, il controllo, è quello di, diciamo, di sfruttare il bisogno cronico di ammirazione che hanno i narcisisti. Quindi già smettere di ammirarlo, ma ti dirò di più, mettergli degli antagonisti, quello che fai il narcisista poi con te, il narcisista che ti triangola, cioè teme la triangolazione e quindi se tu, anziché ammirare lui, semplicemente inizi a elogiare altre persone, inizi a dare valore ad altre persone, inizi a dire che altre persone hanno più valore di lui, hanno più capacità di lui, hanno più forza di lui, stanno meglio di lui, beh, tutto questo li metterà in una situazione di scacco, li metterà in una situazione di scacco matto. E io ti suggerisco di attivare questa modalità, se tu vuoi, diciamo, far sì che il narcisista soffra, se tu vuoi che il narcisista entri in uno stato, diciamo così, di autocolpevolezza, perché tenderanno poi a viversi anche un po' di sensi di colpa, ma rivolti a se stessi, perché penseranno di non essere stati sufficientemente, diciamo, in grado di saper gestire la situazione. E l'ultimo punto è fondamentale, è far vedere che non accetti il suo controllo. Cioè lo piglia direttore in giro, gli dici, sì, sì, farò questo e poi... farei una mazza di quello che gli dici che fai. Ecco, questa, che è un'interruzione di schema, lo destabilizza, lo destruttura, lo manda in tilt. Quindi segui questa istruzione e vedrai che il narcisista perderà il controllo, perderà la testa, non saprà più che fare. Lo manderà in uno stato di disagio. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, in modo tale che riceverai la notifica dei nuovi video.